Nessuno sta parlando di quanto penalizza il tuo bar. Mi riferisco al linguaggio paraverbale. Certamente conoscerai il linguaggio verbale, no? Le parole che utilizziamo per comunicare. Probabilmente conosci anche il linguaggio non verbale, ovvero tutto quello che sono gesti, postura, movenze, che altresì comunicano qualcosa. Ma altrettanto importante è il linguaggio paraverbale, ovvero tutto quel mix di toni, frequenza, velocità che utilizziamo per parlare. Questo allo stesso modo può enfatizzare il messaggio, quindi dare valore al messaggio che stiamo veicolando, quindi alle parole che stiamo utilizzando, ma anche può entrare in contrasto con quelle stesse parole e quindi remare contro il messaggio che vogliamo dare. Ma in definitiva perché questo penalizza il tuo bar? Lo vediamo subito. Ecco, prima facciamo magari un esempio per capire meglio la potenza del linguaggio paraverbale. Un esempio classico, ad esempio, io posso dire ti voglio bene, oppure posso dire ti voglio bene. Ecco, le parole sono le stesse, ma quello che ho comunicato è decisamente differente. Certamente sarà capitato anche a te di avere a che fare con persone, con venditori in un ristorante, magari in un bar di un collega o in un negozio di vestiti d'arredamento di qualsiasi genere, avere a che fare con venditori che proprio ti trasmettevano passione, che ti invogliavano ad acquistare. E altrettanto ti sarà capitato invece di avere a che fare con persone che magari a parole davano quella indicazione di voler essere prodighi verso di te come cliente, ma magari traspariva in qualche modo qualcosa che non ti convinceva. Ecco, questo è proprio l'effetto che fa il linguaggio paraverbale quando l'intenzione non è allineata con quello che stiamo facendo. Ecco quindi che quando magari arriva quel cliente che non ti sta proprio simpatico e al suo saluto, rispondi con un buonasera. Ecco, io adesso l'ho un po' enfatizzato, ma stai tranquillo che quello a lui arriva. Magari hai avuto una giornata no e quindi non sei magari spontanea e vivace come al solito quando accogli il cliente o magari la richiesta un po' strana ti lascia perplessa o magari non hai voglia, che so, di fare quella spremuta, di fare quella centrifuga o quella cioccolata calda magari a maggio o giugno quando inizia a fare caldo. Ecco, stai certo, stai certa che questo al cliente arriva e non lascia in lui certamente un buon ricordo. Ecco che in definitiva il linguaggio paraverbale, se non è allineato con l'intenzione delle nostre parole, ha purtroppo un effetto molto potente verso i nostri clienti, che può diventare un effetto devastante sulla fidelizzazione che noi abbiamo proprio con questi clienti. Quindi il consiglio che voglio dare in conclusione di questo video è proprio quello di non sottovalutare la potenza del tuo paraverbale, cerca di essere più allineato possibile e nel momento in cui ti rendi conto che questo non avviene cerca di essere comunque spontaneo col cliente, eventualmente magari fargli presente se proprio devi lavorare. Il consiglio che ti darai è se puoi evitare magari prenditi quella giornata libera, se è una giornata no e quindi sai che non puoi accogliere al meglio il tuo cliente. Se non puoi, come capisco possa essere, cerca magari invece di fargli capire che il problema non è lui, ma è magari la tua giornata storta, senza riversare i tuoi problemi su di lui naturalmente, ma con trasparenza fai comprendere quelle che sono le tue emozioni e fai sì che la tua intenzione però sia sempre positiva nei suoi confronti, altrimenti il paraverbale si ritorcerà contro di te, ricordatelo.